signora sei interessata a vedere cosa stanno mostrando i telegiornali russi certamente questo è cosa vuole fare la tua gente adesso che canale canale dice visto quello che è successo nella regione di kursk nelle ultime settimane io penso che dobbiamo vendicarci circondarli e distruggerli con bombe a frammentazione capisci io spero che questo sia esattamente quello che stiamo preparando e tutta questa evacuazione è per questo buon motivo per quale altro motivo li avremmo evacuati altrimenti migliaia di persone sono d'accordo con te è quello che voglio anch'io maledetti per distruggere tutto se il nemico si è stabilito nei villaggi catturati dobbiamo distruggere tutto come abbiamo fatto al fronte così è distruggere i nostri villaggi le nostre foreste eccetera eccetera la signora anziana a questo punto commenta dice ma che orrore ho vissuto qui tutta la mia vita e la televisione continua michael lo ha fatto sembrare semplice per farla sembrare come un'offensiva per liberare la terra di kursk ma loro hanno già stabilito delle roccaforti e postazioni di tiro a lungo raggio stanno rinforzando quelle strutture con il cemento zeleschi ha richiesto 27 ruspe che stanno lavorando incessantemente allora io risolverei il problema come il mio collega suggerisce è molto semplice parlerei con i piloti dell'aviazione di sganciare tre bombe plananti da tre tonnellate perché dei piccoli villaggi dovrebbero importare questo punto la signora anziana dice non stanno aiutando voi ci state aiutando portandoci il cibo e tutto quello di cui abbiamo bisogno riescono solo a parlare di distruggere tutto quanto quest'altra signora dice io capisco che siamo solo un gruppo di persone a cui non importa niente a nessuno ma parlare così a tutta la russia è normale salve amici amiche ho aperto così il video di oggi con questi soldati ucraini nella regione di kursk che mostrano ad alcune signore della regione che sono rimaste in quelle case cosa dice la televisione russa di loro e penso che sia abbastanza inutile commentare a questo punto ma provate per un attimo a mettervi nei loro panni a sentire la televisione nazionale fare affermazioni del genere ma andiamo avanti sulla scia degli eventi che sono accaduti ieri dato che ormai tutti parlano dell'attacco dronico ucraino al deposito di munizioni di toro pens porto alla vostra attenzione alcuni elementi nuovi che ho messo insieme intanto l'obiettivo strategico era di vitale importanza per le operazioni militari russe dato che conteneva un enorme scorta di missili skander e bombe erbellanti e munizioni di artiglieria quindi è stato un enorme successo per le forze ucraine come ho letto anche nei vostri commenti con questo botto che ha fatto vibrare il terreno per tre misure della scala richter ci saranno meno missili e bombe che così non pioveranno sulle città ucraine e sui civili comunque devo dire che oggi i filorussi si sono scatenati e hanno raggiunto i punti più bassi mai visti con le loro affermazioni perché come si dice alla romana probabilmente stanno a rosicà vi mostro questo post dove parla di pericolosa escalation attacco combinato usa nato kiev ieri in russia ed è bellissimo perché poi possiamo vedere anche no le reazioni a questo post e commenti e come funziona tutta la filiera filorussa il primo insomma pubblica un'idiozia e poi tutti gli altri gli danno ragione e continuano ad arricchire la narrazione non un po come si faceva da bambini quando si passava l'informazione da un orecchio all'altro e quindi insomma si arricchisce di informazioni inventate e alla fine alla fine c'è addirittura chi dice che gli ucraini hanno sganciato una bomba atomica in russia davvero e niente insomma per quelle quattro risposte che ha avuto questo post basta e avanza per rendersi conto del disagio mentale ma come dire ormai siamo un po abituati no a certe esternazioni o prese di posizione almeno in italia che si commentano anche da soli voi che dite comunque oggi guardando su x sono capitato in questa pagina dio mio una persona che mette le frecce tricolori sullo sfondo no mi fa sempre molta paura socio fondatore di riconquistare l'italia che dice che dobbiamo abolire l'unione europea e la prima che sia troppo tardi e poi non posso mostrarvi i suoi post perché diciamo che sono un tantino estremi ecco comunque è un territorio del disagio dei tutti quei robottini che cercano di accaparrarsi le mazzette del cremlino evidentemente o almeno non forse non sanno neanche che il cremlino paga bene per fare questo tipo di narrazione e lo fanno gratis comunque inutile dirlo ma ci sono poche idee e molto confuse ora non sto tanto a sindacare perché non mi non mi interessa ripeto non seguo niente di quello che viene dall'italia poi alcune affermazioni sono troppo stupide anche per poterle commentare commento solo lo sfondo con le frecce tricolori questi aeroplani senza la nato non esisterebbero hanno motori ross royce inglesi avioniche statunitensi sistemi di navigazione europei e statunitensi fanno parte di un programma di riarmo italiano all'interno dei paesi nato e addestrano ogni giorno piloti svedesi spagnoli greci ma anche di taiwan ultimamente e non solo giapponesi tedeschi insomma sono il simbolo di un'italia che si è ripresa e mostra le sue eccellenze brillando proprio e grazie all'unione europea e alla nato a un insieme di nazioni che appunto per il semplice principio che l'unione fa la forza contro le tirannie e le no possiamo dire tranquillamente che questa coalizione che ha prodotto fra le altre cose anche l'eurofighter il tornado l'MB339 questa coalizione si mangerebbe a colazione uno stato come la russia e tutto questo appunto questa italia con tutte le sue contraddizioni ma anche i suoi punti di forza senza gli stati uniti non ci sarebbe mai stata perciò ecco prima di coprirsi di vergogna con questi post baciando i piedi ad un criminale di guerra come putin in decine di post secondo me questo soggetto dovrebbe un attimino capire la storia del nostro paese che gli ha permesso proprio i natali senza quel benessere non sarebbe nato probabilmente quindi scusate lo sfogo ma andiamo avanti perché come ho detto oggi fra ieri e oggi si sono scatenati c'è questo signore non so chi sia si chiama marco rizzo che scrive già questo canale su x dice di essere di democrazia sobrana popolare un populista quindi aiutiamoci ripeto mi spaventano questi discorsi perché no populismo è quello che metteva le streghe a rogo per intenderci no cioè non è che il popolo ha sempre ragione non funziona così poi si definisce militante politico non so che significhi figlio di armando operaio fiat va bene laureato giornalista ama il cinema la storia la box e tifa toro ok bellissima descrizione scrive ormai ci siamo l'attacco è a mosca la guerra mondiale è iniziata grazie agli usa e dai governi europei sottomessi moriremo tutti come nelle esplosioni nucleari i sismografi di tutto il mondo hanno registrato un'energia pari a un terremoto di magnitudo 2,8 a nord ovest di mosca ok allora nord ovest di mosca scusate ho salvato la pagina non è proprio a nord ovest di mosca è tipo a 600 chilometri da mosca non è a mosca e non è stata attaccata mosca con questo attacco comunque molto bene voglio dire signor egregio signor marco rizzo comunque il suo post ora che ho finito di scrivere sto registrando questo video era di otto ore fa appunto ha parlato di guerra mondiale che è iniziata ok lasciamo perdere il discorso terremoto che non si può registrare in tutto il mondo ma solo nell'aria vicina ma su questo diciamo lasciamo perdere il discorso sismico non voglio entrare nel merito comunque faccio presente anche per correggere quanto detto nei suoi post precedenti che la fantomatica russia per quanto oggi sia arretrata senza risorse che sta scivolando paurosamente nella categoria di un paese del terzo mondo comunque quella russia possiede ancora satelliti ed antenne e vr che significano early warning radar cosa significa tutto questo che se la russia avesse rilevato il lancio di un missile balistico intercontinentale nei suoi confronti prima di tutto l'avrebbe notato e poi avrebbe potuto reagire in qualche modo ok perché diciamo sono gli ultimi 60 anni che si preparano a questo con la guerra fredda quindi a ipotesi a oggi la loro reazione politica sarebbe su tutti i notiziari mondiali ne parlerebbero tutti e tutti quanti no ci sarebbe questa forma di escalation politica con accuse molto gravi da parte di mosca ci sarebbe insomma tanto di cui parlare no soluzione b quella più estrema nel caso di una sovra reazione a un lancio balistico no da parte della nato come lei dice nei confronti di mosca quando in realtà stiamo parlando di un deposito a 600 km da mosca quindi nel caso la russia avesse come lo ha capito lei non lo so ma nel caso ci fosse stato comunque la russia avrebbe scoperto ci fosse stato un attacco nato diretto verso la russia e avesse reagito con in modo nucleare scatenando la terza guerra mondiale beh dovrebbe informarsi perché il lancio di questi missili la loro entrata in orbita e la traiettoria balistica di questo tipo di missili comporta un volo un tempo di volo di meno di 15 minuti a meno che non è un terrapiattista però se parliamo di fisica normale e del globo terrestre i tempi di volo di un missile balistico sono nell'arco di 15 minuti anche meno se si deve colpire l'europa quindi ecco dato che il suo post era di otto ore fa possiamo dire con assoluta certezza che la terza guerra mondiale o l'apocalisse nucleare come qualcuno di questi filorussi patentati la chiama non è ancora iniziata poi io lo so che adesso la televisione italiana e i social daranno spazio a un mucchio di cretini che si professano esperti militari che diranno che questo deposito di munizioni è stato colpito con un missile da crociera europeo e tante altre idiozie ma cari amici state sereni perché come è successo per l'ospedale pediatrico le persone sane di mente si sono già messe all'opera per raccogliere dati e confrontarli sul tipo di drone che ha colpito questo deposito quindi sappiamo intanto che ci sono c'è un audio in cui si sente il sibilo di un motore jet e questo fa pensare che gli ucraini abbiano utilizzato effettivamente per la prima volta un loro missile cruise a lungo raggio un drone con le ali però equipaggiato con un piccolo motore a jetto chiaramente è sempre un oggetto semi artigianale possiamo definirlo così non è alta tecnologia stealth come lo è uno storm shadow ok però di sicuro ha delle capacità migliori in termini di velocità e anche di testata che può trasportare rispetto ai cosiddetti droni quelli più lenti col motore a elica ok quindi state tranquilli che non è stato uno storm shadow anche perché lo avrebbero detto hanno suoni molto diversi fra l'altro non ve li posso fare sentire però ecco pubblico un piccolo video a parte di pochi secondi che appunto dimostra che i due missili hanno due suoni diversi a parte questo comunque se fosse stato uno storm shadow come alcuni filorussi sostengono senza le prove cambierebbe qualcosa no perché sono già stati usati in territorio russo o territorio ucraino occupato non fa nessuna differenza dato che più volte e più il signor dittatore criminale di guerra putin ha affermato che i territori occupati dalla russia in ucraina sono russia cioè putin in passato ha detto tantissime volte che avrebbe premuto il bottone rosso se gli ucraini avessero usato armi occidentali per colpire i territori occupati perché lui diceva io ormai l'ucraina la considero russia il donbass e russos quindi se voi mi colpite il donbass e la crimea e come si è colpite la russia bene questo è stato fatto più e più volte con gli storm shadow quindi sappiamo che quello che dice putin alla fine serve ad altro non serve per questo insomma non c'è il rischio che scateni una guerra nucleare anche perché continuo a ripeterlo negli ultimi 30 anni 40 anni l'occidente si è munito di uno scudo spaziale la russia c'ha nulla non è incapace manco di intercettare dei droni figuriamoci dei missili balistici quindi se ci fosse un pazzo al cremlino che si sogna da un giorno all'altro di premere quel bottone rosso per la russia sarebbero veramente tanti 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 dolori per non dire qualcos'altro comunque a parte questo con i suoi 500 chilometri di raggio di autonomia gli scalp detti anche storm shadow non sarebbero stati in grado di partire dai confini ucraini e raggiungere toropez perché siamo a oltre 700 chilometri di distanza quindi questi geni della tastiera filorussi si sono inventati che gli storm shadow in realtà sono stati lanciati dalla lituania la lettonia o l'estonia quindi dai confini nato ottimo va bene ammettiamolo lo dico anche io da esperto militare sono stati loro a stati loro siamo in guerra così imparate guerra fondai espansionisti atlantisti quello che volete putin salvaci scherzi a parte io non credo che se a quel genio militare venisse il ghiribizzo di premere il bottone rosso i filorussi verrebbero scansati dai missili e posto che qualcuno riuscisse a sopravvivere ai 15 minuti di follia del mondo le maggiori città europee sarebbero un cumulo di macerie la russia verrebbe riportata all'età della pietra se non prima quindi a questo punto ditemi che importanza essere atlantisti o lecca scusate filo putiniani no bene passiamo avanti un breve aggiornamento dal fronte nella regione di kursk le forze russe continuano a spingere in direzione est conquistando alcune fette di territorio liberandolo possiamo dire così spingendosi però sempre più nella sacca ucraina da parte ucraina si segnala un assalto con leopard che ha ripulito una casa matta o centro di comando proprio nella regione di kursk e poi la fanteria lo ha presidiato vi mostro la rappresentazione di questi ultimi 5 giorni su deep state map per capire come stanno cambiando rapidamente le cose e le posizioni russe e quelle ucraine proprio con l'apertura del varco e la loro proiezione verso ovest ed est di cui vi ho parlato ieri passando oltre anche un breve accenno alla città di voi chask dove le forze ucraine hanno liberato altri quartieri spingendosi verso nord mentre a est i russi continuano a spingersi verso la strada di colis nivisca qui in quest'area che sono essenzialmente tutti i campi e filari di alberi mentre la zona la zona di avanzata verso pokrovsk non ha avuto cambiamenti significativi in queste ore tra l'altro è interessante non vi posso mostrare assolutamente le immagini già il video di ieri mi è stato demonetizzato perché vi ho mostrato l'esplosione del deposito comunque se vi interessa vi posso postare qui sotto il link di questo video che è praticamente avete presente il film mad max fury road ecco però in versione di bassa risoluzione ecco vediamola così ci sono dozzine e dozzine di attacchi dronici ucraini diretti contro mezzi russi improvvisati scatolette macchine improvvisate senza pannelli rottami motociclette camioncini qualsiasi cosa insomma i russi riescono a recuperare ce ne sono dozzine in quattro minuti di video ci sono dozzine e dozzine e dozzine di attacchi di questo tipo quindi quattro minuti di distruzione di attacchi dronici che arrivano proprio da questa avanzata verso pokrovsk da parte russa il cosiddetto tritacarne bene ormai viene chiamato così passiamo ad altre notizie adesso allora l'eventualità che l'ucraina inizi a usare missile a lungo raggio forniti dall'occidente sta mandando letteralmente nel panico il cremlino tanto che ieri le notizie che riguardavano l'attacco dronico ucraino al deposito di munizioni sono state trasmesse immediatamente dai notiziari come detriti di droni che sono caduti accidentalmente sul deposito aggiungo causando un piccolo incendio e poi qualche esplosione accidentale da terzo grado della scala richter però è ovvio insomma che se gli ucraini riescono a fare questi risultati a ottenere quello che vogliono distruggendo le infrastrutture più importanti e i depositi di munizioni russi con droni da poche centinaia di euro immaginiamo cosa potrebbero fare con dei missili veri missili da crociera veri quindi si fanno proprio bene a preoccuparsi al cremlino è molto interessante notare poi come in questi giorni stanno cambiando un poco le affermazioni politiche in occidente ovviamente mettiamo un attimo da parte quelle italiane e la televisione italiana in generale perché sappiamo benissimo che ci sono due narrazioni diverse che i nostri politici possono fare il loro teatrino televisivo quando e quanto vogliono ma le decisioni militari nel nostro paese comunque vengono prese a porte chiuse cioè e anche a quel punto i politici ne danno semplicemente comunicazione prendono atto di decisioni che vengono prese in sfere un po più in alto di loro insomma non fraintendetemi ma secondo me bisogna proprio separare le due cose una è la politica e la commedia all'italiana che si fa in televisione e sui giornali l'altra poi è la politica a porte chiuse quell'italia che opera all'interno di una coalizione militare e strategica internazionale sono due cose diverse che operano in modo molto diverso e la popolazione i cittadini non sono messi a conoscenza di queste decisioni sono dopo in genere comunque per non tergiversare sapete se l'avete sentito che zeleski ha presentato un piano per la vittoria in questi giorni l'analista militare e storico timothy schneider uno storico presso l'università di yale ha risposto a questo piano posto da zeleski in particolare sull'ultimo punto che parlava del fatto che alla fine secondo zeleski i russi devono convincersi di aver perso era un po timothy schneider ha fatto un po di chiarezza su questo punto è proprio a posto un interessante prospettiva della questione guerra ve la traduco ha detto che l'essenza degli imperi si controlla con la loro narrazione con la loro definizione con i discorsi che fanno e a larga maggioranza la russia oggi è stata in grado di influenzare e controllare l'orientamento dei discorsi strategici imponendo all'occidente delle scelte e delle regole nella guerra che non sono mai esistiti prima per esempio l'idea che quando invadi un altro paese gli altri paesi devono stare alla larga è una cosa completamente nuova che non è mai esistita nella storia un'idea assurda dice che in qualche modo noi abbiamo accettato ma è completamente senza precedenti nella storia umana e anche negli stati uniti è diventato normale pensare che questa guerra andrebbe combattuta solo dalla distanza e dagli ucraini sui loro territori per gli ucraini non ci sono precedenti per questo genere di idea un'altra idea che la russia è che abbiamo accettato e che per esempio io e te possiamo incontrarci a kiev per parlare delle nostre cose mentre piovono missili da crociera russi tutti intorno mentre per qualche motivo non è normale che i missili ucraini possano piovere sulla russia perché mai perché è normale per la russia attaccare l'ucraina e non viceversa e questo ha a che fare con la narrazione dell'impero russo che impone questo tipo di idee che noi abbiamo comunemente accettato per qualcosa che è accettabile nella pressione che fa mosca e per accettare che l'ucraina in qualche modo abbiamo accettato l'idea che l'ucraina è la vittima e giochi il ruolo della vittima e quindi abbiamo bisogno di riconsiderare il nostro modo di pensare le basi e la struttura del nostro pensiero quindi finché l'impero russo si preoccupa della sua narrazione sui limiti e sulle definizioni del conflitto e per poter fare delle considerazioni su un'eventuale vittoria dobbiamo riconsiderare le cose dice io credo che gli ucraini sono pronti a fare qualcosa per cui stanno cercando di convincerci da tempo su un concetto molto importante per il futuro delle negoziazioni la russia cercherà di fare delle negoziazioni di pace quando capirà che sta perdendo e così dice chiunque parlerà seriamente di negoziazioni quella persona in russia dovrà cercare di portare il suo paese in una posizione da sconfitta l'ucraina c'è riuscita ma ha avuto enormi difficoltà a convincere noi di questo concetto di questo assunto quindi quando parliamo di vittoria o di un piano per la pace quello che intendono e che devono fare è servere serve mettere la russia in una posizione da sconfitta costringendola a parlare di negoziazioni in modo serio come non ha fatto fino adesso quindi è importante da capire il concetto cioè finché la russia non accetterà questo tipo di discorso ovviamente continuerà a fare quello che vuole a imporre a imporre la smilitarizzazione dell'ucraina a scacciarla dal proprio territorio ma finché non si rende conto che sta perdendo la guerra non potrà fare delle negoziazioni di pace di conseguenza sulla scia di questi ragionamenti poi lo stesso sicorski ministro per gli affari esteri polacco ha detto la sua proprio questa mattina per un discorso molto interessante che vi traduco ha chiesto che la crimea venga posta sotto mandato dell'onu e che vi si tenga un equo referendum sicorski ha detto che se gli ucraini iniziassero a riprendersi la crimea putin non oserebbe iniziare a combattere per il donbass e il ministro degli esteri polacco ha detto che la penisola dovrebbe essere posta sotto mandato onu con la missione di preparare il suo referendum la crimea ha detto è simbolicamente importante per la russia e soprattutto per putin ma strategicamente è più importante per l'ucraina quindi non vedo come possano raggiungere un accordo senza smilitalizzare la crimea potremmo metterla sotto mandato onu con la missione di preparare un equo referendum dopo aver verificato chi sono i residenti legali e cose del genere e potremmo rimandarlo di 20 anni ha detto sicorski all'incontro sì a kiev sicorski ritiene che un accordo tra le parti sia possibile solo se la crimea venga smilitarizzata ma se entrambi i paesi lo desiderano una soluzione potrebbe trovarvisi proprio qui quindi interessante voi che dite detto francamente mi trovo abbastanza in linea con quanto espresso zelensky e poi dibattuto dallo storico timothy snyder per quello che per me e per tanti analisti occidentali oggi è evidente almeno se parliamo del tracollo economico russo dei 640 mila soldati russi caduti o feriti della distruzione di tutto l'apparato militare russo in questi oltre due anni e mezzo di conflitto è evidente che la russia questa guerra la sta perdendo insomma l'orientamento è quello per carità può anche continuare a mandare avanti gli uomini per prendere qualche chilometro nel donbass ma a che pro non avrebbe comunque poi le risorse per tenere quei territori e per ricostruirli è per questo che ha perso quindi sul lungo termine ha perso in ogni caso quindi a questo problema ci sono arrivato l'ho analizzato tante volte ma non solo io perché come ho detto altre volte ho preso spunto anche da altri che lo hanno fatto e quindi per quanto il dittatore che ha firmato gli ordini di invasione possa essere circondato da tutti i cretini yes man e ladri è chiaro che sa benissimo a cosa sta andando incontro la russia adesso voglio dire forse avrà anche creduto di conquistare kiev in tre giorni massimo una settimana due anni e mezzo fa ma a questo punto oggi è chiaro che non ci riuscirà mai neanche fra vent'anni quindi e questo è già successo tante altre volte nella storia umana ora si tratta solo di capire come far le cose diplomaticamente e pubblicamente e apertamente visto che la russia sta perdendo questa guerra una volta per tutte facendo in modo che lo stesso dittatore o chi per lui non ci perda troppo la faccia per dirla in modo politico anche se non sono d'accordo personalmente ritengo che l'unico posto di putin e dei suoi amichetti di merenda sia quello di mettersi davanti al tribunale internazionale dell'aia ma a parte questo è chiaro che si stanno facendo progressi in questi giorni e le linee rosse ormai sono diventate una matassa di linee superate da un pezzo quella dei missili a lungo raggio è solo un altro come tante quando anche fra l'altro l'occidente si rifiutasse per sempre di fornire a queste autorizzazioni gli ucraini stanno costruendo i loro missili a lungo raggio quindi che cosa cambia li useranno comunque prima o poi quindi cari amici per oggi è tutto fatemi sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti un abbraccio alla prossima